Buongiorno a tutti, allora, 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 cominciamo la giornatona con delle belle news. Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. Allora, la prima riguarda l'orario, il tempo, una cosa che si fa tutti gli anni e che ha avuto, diciamo, dei problemini europei, perché c'è chi la vuole, c'è chi non la vuole. Poi c'è una bella dichiarazione di un comico che a me piace molto, che imito spesso, si fa per dire, quando faccio le schedine e bollettine del gigione, no? Quando devo dire, devo farvi le imitazioni, ecco, c'è anche lui. E poi si parla di astronomia e del tempo, tempo in generale, no? Perché loro le stagioni le dividono in maniera diversa. Ci sono gli astronomi e ci sono i meteorologi, se non sbaglio. Sì, 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 esatto. E le dividono in maniera diversa. E poi abbiamo un medico che ha deciso di diventare anche scrittore, siccome è Comasco, è del zona di Como, ne parliamo. Magari non interesserà a nessuno, ma vabbè, c'era anche questa di notizia, l'ho messa dentro. Detto questo, ragasoli, partiamo subito. Come dicevo prima, c'era chi voleva abolire per sempre l'ora legale e c'è chi invece oggi pensa di adottarla tutto l'anno perché potrebbe essere indispensabile per compartere la grave crisi energetica che stiamo vivendo a causa della guerra e delle speculation, speculazione. A chiederlo al governo è il Sima, società italiana di medicina ambientale. Allora, anche qua, a me viene da ridere, no? Perché qualcuno dice, ah no, ma l'ora legale, poi ti sballa il metabolismo perché è qui, perché è su, perché è giù. Poi qualcuno dice, no, è bella perché così hai un'ora in più di luce, avere più luce, meglio, eccetera, eccetera, perché ti rende più felice avere le giornate lunghe, eccetera, altri, no, perché poi dopo il sonno uno non riesce a dormire, soprattutto quelli che devono andare a letto alle nove perché si svegliano presto con il sole, eccetera, non... E' sempre uno. Comunque, andiamo a leggere, proseguiamo. La politica discute di razionamenti del gas alle imprese. Sabato in dia di per le scuole e riduzione della durata dei riscaldamenti dal prossimo autunno, ma dimentica, spiega il presidente Sima Alessandro Miani, che già dal 2018 il Parlamento europeo ha approvato con l'84% dei voti favorevoli l'abolizione dell'obbligo del cambio di orario due volte l'anno, lasciando di fatto liberi i vari stati di scegliere se optare per l'ora solare o legale. Il passaggio permanente all'ora legale consentirebbe di guadagnare un'ora di luce, calore e solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa un miliardo di euro solo nel primo biennio. Allora, io il gas non ce l'ho a casa, ho tutto elettrico, per causa di forza maggiore, perché per fare l'allacciamento dalla via vicino a casa mia, da cui dovrebbe, c'è la presa del gas teorica di casa mia. Fino all'appartamento c'è da fare tutto un percorso talmente lungo che solo in tubi di rame mi costerebbe un occhio della testa. Quando hanno fatto due conti mi fanno Gigi, ti costerebbe così, io boing! Al che ho adottato un calorifero elettrico in bagno, che è similare ai caloriferi quelli classici, però un po' più alto, da utilizzare quando serve, e mi ha messo due caldo-freddo, le pompe di calore, non so come cavolo, i condizionatori della Mitsubishi elettrici che accendo col telecomando, metto la temperatura che voglio, eccetera eccetera. Per ora non li uso, io spero di riuscire a resistere fino al 7 di novembre senza utilizzarli, vedremo, vedremo come andrà perché qua fa freschino. Ma proseguiamo ragazzi, io divago, sapete che mi piace divagare. Stavo dicendo, intanto si annuncia la stretta sui riscaldamenti da ottobre per l'emergenza gas. La misura è stata anticipata durante il Consiglio dei Ministri dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Dal 1 ottobre temperatura inferiore di un grado e termosifose ne accesi un'ora in meno ogni giorno, ma il vero incubo per aziende e famiglie saranno le bollette. Senza interventi per calmerare i prezzi l'inverno potrebbe diventare drammatico. Io, ripeto, il DAS non ce l'ho, però anche l'energia elettrica costa mica da ridere, anzi devo richiamare, dare l'ultima chance alla ditta con cui ho il contratto che mi aveva fatto determinate promesse eccetera eccetera che non ha mantenuto. Alla prima telefonata mi hanno detto non si preoccupi, le arriva anche lo sconto, le restituiamo quello che ha pagato in più e pagherà questa cifra qua. La cosa non è successa, ho richiamato, mi hanno detto di guardare il contratto eccetera, gli ho detto scusi cosa c'entra guardare il contratto. Se io faccio un contratto non è che lo faccio in bianco, parlo con un consulente che mi dice le facciamo pagare così, 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 così. Quando gli ho detto così eh ma un contratto come il nostro se trova meno faccia pure, cambi pure. Va bene. Adesso gli do un'altra chance, richiamerò e poi vedo cosa mi dicono. Se fanno ancora il curucù, ciao, ciao. Ma passiamo a un altro argomento. Questo attore, che ve lo dico alla fine chi è, ma tanto lo capirete a metà della lettura perché c'ha una delle sue battutone all'interno di questa, di queste sue dichiarazioni, anzi quasi subito. Dice mi mancano quelle belle vie di Milano uote dove si girava in bicicletta e la scena del trattore in piazza San Babila. Fantascienza se pensiamo a cosa c'è oggi. Già avrete capito di chi si parla. Ma va bene così. Oggi le persone vivono freneticamente con il tac. Se pensate alla velocità di tutto e tutti, accompagni i figli a scuola, tac. Torni a casa e prepari da mangiare, tac. Guardi tua moglie e pensi che ti sei sposato per amore e non per altro, tac. E la tua felicità è un tac che posizioni in fondo alle frasi perché in quel momento sei felice ed infelice. Felice perché hai tante cose, infelice perché le cose che non avevi prima ti mettono a disagio in quel momento. E vorresti tornare indietro alla tua semplicità. E così la società d'oggi va forte e i ragazzi sono piene di troppe cose che non possono far nascere un qualcosa che si possa definire trash. Anzi, oggi c'è troppa poca leggerezza. E le generazioni mie, Teocoli, Boldi, Batantuono, Villaggio, non le ugualierà nessuno. Perché noi abbiamo fatto epoca con le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre tristezze e le nostre tragedie. Perché un comico che può far veramente ridere deve sorbirsi esperienze di ogni genere. E la bellezza di una faccia che si riconosce è proprio questo. Se mi riesci a guardare negli occhi ti sentirai a casa. Una casa che si chiama italiano. Come le belle cose che si facevano tra il 1960 e il 1990. Poi tutto diventa difficile. Ed è un peccato non per me che ho anche l'ombrella, ma più per voi che ridete poco e vi divertite male. Provate dunque ad usare un tac per ogni cosa che fate. Anche se siete tristi ripetetemi, sono triste, tac. Sono felice, tac. Vedrete che prima o poi un sorriso arriva. Ecco, quello sono io, Renato Pozzetto. Grande Renatone, come sempre. Spero che vi abbia fatto riflettere quello che ha detto. Veniamo appunto a questa cosa qua, questa diatriba sulle stagioni, no? Perché per alcuni iniziano nella determinata data, per altri iniziano nella determinata data a cui siamo abituati a farle iniziare. Per gli astronomi e comuni mortali l'autunno 2022 inizia ufficialmente il 23 di settembre. C'è qualcuno dice il 21, qualcuno il 22, qualcuno il 23, io sapevo il 21 settembre. Però cambia poco, un giorno più, un giorno meno cambia poco. Ma per i meteorologi è iniziato il primo settembre. È una regola che vale per tutte le stagioni. L'inizio di ogni singola stagione è fissata per convenzione il primo giorno nel mese nel quale cade l'inizio della stagione astronomica. Perché questo pasticcio di date? Per semplicità e convenienza. Ci sono infatti almeno un paio di buoni motivi per i quali vale la pena fare partire le stagioni meteo a inizio mese. La disposizione barica. La prima e forse più importante e buona ragione è la disposizione, sull'intero globo, delle alte e basse pressioni che contraddistinguono il quadro di una stagione. Di solito queste iniziano a mostrare i segni della nuova stagione in arrivo circa due o tre settimane prima dell'equinozio o del solstizio. Per esempio le principali disposizioni delle alte e basse pressioni del 15 luglio o del 15 di agosto sono ben diverse da quelle del 15 settembre che ancora è estate dal punto di vista astronomico. Nei primi due casi si ha un vero o proprio quadro estivo mentre nel secondo il quadro già molto vicino a quello autunnale. Dal punto di vista meteorologico il 15 settembre è insomma già autunno che vuol dire che il primo di marzo è già primavera. Stagioni meteorologiche e stagioni astronomiche. L'andamento delle temperature nei mesi di giugno da giugno a settembre, il valore che mediamente si registra al 15 giugno è più elevato di quello medio il 15 settembre quando dal punto di vista astronomico ancora estate. Il secondo motivo per il quale si preferisce fare iniziare le stagioni meteorologiche a inizio mese riguarda gli studi statistici. Poiché le stagioni durano tre mesi e poiché l'analisi climatologica mensile viene effettuata dal primo giorno del mese all'ultimo è più ragionevole fare blocchi di tre mesi per ogni stagione a partire dall'inizio di ciascuno di essi. Solitamente si dice ad esempio il mese di giugno è stato il più caldo del così come è stato il dicembre più freddo da certamente non avete mai sentito dire dal 23 settembre al 23 ottobre si sono avuti giorni più caldi più freddi eccetera eccetera. Per farla breve è una questione di praticità inverno ed estate iniziano il primo di dicembre e di giugno e finiscono l'ultimo di febbraio e di agosto mentre primavera e attunno iniziano il primo di marzo e di settembre e finiscono l'ultima di maggio e di novembre. Quindi ragazzi il meteo pensa una cosa gli astronomi pensano un'altra. Siccome sono anche due branchie completamente diverse perché l'astronomia solstizio d'estate d'inverno i segni zodiacali questo questo le stelle non le stelle. I meteorologi si occupano piove non piove c'è il sole fa caldo fa freddo fa così così eccetera eccetera. Quindi essendo anche due cose diverse possono benissimo prendere due strade completamente diverse gli uni dagli altri. C'è chi fa iniziare giustamente al 23 di settembre l'autunno e gli altri la fanno iniziare al primo di settembre. Come sono più comodi tanto a noi cambia una beata Giovanna. Veniamo all'ultima notizia questo medico questo vesico che si è messo a scrivere quindi ve ne parlo poi se volete comprare il libro io non me ne rientra niente ve lo dico subito. L'ho trovata su Qui Como come al solito e quindi una vita da medico cinque anni come consuliere comunale di Como e adesso un futuro da romanziere. Gianni Imperiali non si reinventa semplicemente ha trovato il modo o meglio il tempo di dedicarsi a quella che insieme al sassofono è sempre stata una delle sue grandi passioni la scrittura. Grande divoratore messo tra virgolette di libri prima di tutto. Imperiali si è cimentato finalmente nella stesura del suo romanzo d'esordio. Accattivante il titolo. Il rompicapo assurdo. Sottotitolo frammenti. Lo stile di scrittura personalissimo rende ogni pagina leggera e piacevole alla lettura nonostante la densità emotiva che la pervade. Prosa da sapor di poesia potremmo dire. Come recita la quarta di copertina l'inatteso che rompe fa da catalizzatore per una riflessione sull'assurdità e sulla innocenza del vivere e già qua comincia. Intriga intriga perché una riflessione sull'assurdità e sull'innocenza del vivere. Assurda innocenza messe assieme sembrano un pugno negli occhi perché. E così ogni pagina è un piccolo microcosmo di emozioni che portano il lettore a immedesimarsi a sentire ciò che l'autore sentiva quando ha vissuto quei momenti o quando semplicemente li ha immaginati. Per la stampa è la vendita del libro 180 pagine quindi non è un un tolkien che dei mega volumi o non è uno slasing a diritto privato mille passa pagine. Imperiali si è affidato ad amazon quindi lo trovate su amazon. Dunque una sorta di autoproduzione che ha lasciato all'autore totale potere decisionale su ciò che dovesse finire in stampa. Quindi andate su amazon libri potete inserire imperiali potete inserire il titolo me lo metterò in descrizione il rompicapo assurdo voi mettete il libro il rompicapo assurdo verrà fuori non so cosa costa eccetera perché ve l'ho detto non mi rientra niente quindi non sto lì a mettere la pubblica perché sennò mi dice fai pubblicità eccetera no ho trovato questa notizia ve l'ho inserita poi fate l'obis detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso carico questo video poi vi carico il video che già preparato c'è il video il faccio il video del delle altre call news che ho preparato ieri riguardano se non ero tre film però dopo ve ne parlo vi faccio la prefazione come sempre e ci vediamo alla prossima poi se riesco rispondo a un mio follower non so se un mio follower o meno mi ha fatto una domanda sul mio video uno degli ultimi che ho fatto siccome è stata una domanda che mi acchiappa ve ne parlerò gli risponderò giustamente poi non so se un mio follower o meno forse non è neanche uno dei miei iscritti perché non mi è apparso sulla però mi segue perché è un nome che ho già visto magari non si è iscritto ma mi segue oppure non so come mai non è apparso nella didascalia delle sapete che abbiamo la didascalia la campanellina che ci dice ci avvisa se ci sono video nuovi di persone che conosciamo che seguiamo su youtube di cui abbiamo attivato la campanella e naturalmente anche se ci sono delle risposte a dei video mi è apparso che mi ha risposto sul video ma non c'è sulla campanella strano comunque lasciamo perdere mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao ciao